l'associazione venariese dell'avis ha ospitato il plastico della memoria una installazione multimediale per raccontare e spiegare alle nuove generazioni uno dei momenti più tristi della nostra storia aschwitz dall'alto un progetto nato da ivano voghera e condiviso da due associazioni venariesi il retroscena il 296 model venaria entrambe hanno pensato di realizzare per questo giorno della memoria un progetto che possa ricordare e rimanere impresso nella memoria di tutti e spiegare in un modo innovativo una delle pagine più brutte della storia europea e mondiale l'idea è nata per creare in scala una riproduzione del campo di sterminio di birkenau riproducendo sul plastico una serie di proiezioni multimediali di alcune scene di vita vissuta raccontate dagli attori dell'associazione retroscena sulla base del libro l'istruttoria di peter wise ed è stato proprio questo lo scopo portare tanta gente al salone in biale bulidani per ricordare e non dimenticare portando la storia raccontata in modo vivo e multimediale all'attenzione dei ragazzi all'interno delle mostre nasce da un'idea avuta da ivano voghera ci ha fatto incontrare con monica marco e noi modellisti e lì è nata l'idea di creare un plastico che per poter poi realizzare il montaggio video eccetera con il gruppo di retroscena il tempo di realizzazione da parte nostra ci abbiamo impiegato cinque mesi sono circa 4000 ore di lavoro per la realizzazione del plastico le misure del plastico sono due metri e cinquanta per un metro e 90 l'associazione model ci ha chiesto la collaborazione noi abbiamo accolto con favore perché da sempre la nostra associazione molto sensibili sensibile a questo tema e da diversi anni noi tutti gli anni per il giorno della memoria comunque realizziamo una rappresentazione teatrale sul tema e quest'anno l'unione di queste due associazioni ha prodotto e questo progetto che è composto da una parte teatrale nella quale si ripercorre un po la storia del perché gli alleati non hanno bombardato il campo di Auschwitz Birkenau e poi da una parte invece legata al plastico dove vengono proiettate delle immagini e delle testimonianze che sono tratte dal libro l'istruttoria di Peter Weiss e il connubio crea un progetto veramente originale multimediare e di grande effetto e noi speriamo davvero che l'unione di tutte queste cose crei un prodotto efficace che faccia veramente riflettere sul significato del giorno della memoria sarà portato presso il comune di Lanzo e poi anche a pianezza e poi fino al 30 gennaio il plastico è esposto in via Alfieri 15 che è la sede del palazzo del consiglio regionale palazzo Rascari Satorino il plastico dell'associazione 296 e gli attori dei retroscena hanno raccontato le testimonianze lasciando i numerosi spettatori accorsi con gli occhi lucidi al ricordo di quella immane tragedia un monito per la nostra generazione e quelle future perché vergogne come quella dell'olocausto non accadono mai più